Inizio col dire, e non con scopo allarmistico, che la malattia tumorale è estremamente diffusa. Se noi prendiamo un gruppo eterogeneo di mille persone, possiamo aspettarci 6-7 casi di tumore. I tumori più frequenti sono polmoni, colon retto, mammella, prostata, ma i più mortali, cioè quelli che causano il 29% delle morti, sono tumore a polmone, tumore colon retto e tumore alla mammella. È evidente che è necessario un buon sistema di screening, parliamo quindi di prevenzione primaria con educazione e anche prevenzione secondaria, cercando di avere le diagnosi più precoci possibile, perché prima si inizia i trattamenti, prima può esserci una risoluzione della malattia, nella maggior parte dei casi. Bisogna tenere anche in conto il discorso dei rischi, rischi da un punto di vista della persona, ma anche dell'ambiente che occupa, del suo lavoro, rischio occupazionale, chiaramente una persona che lavora con le radiazioni, è più a rischio di sviluppare patologia tumorale, ma anche una persona che lavora in fabbrica con il tetto fatto di amianto, non dovrebbe più esistere questa cosa, eppure esiste ancora, oppure persone che lavorano in laboratorio con materiali che sono cancerogeni, come per esempio il benzene, o anche persone che sono a rischio di infezioni, per esempio da helicobacter pylori o papillomavirus o HIV, che possono causare tale livello di stress citologico che poi si risolve in neoplasia. In ambito oncologico, le aree di intervento dell'infermiere sono esattamente le stesse degli altri ambiti, ovvero accompagnamento del malato nei trattamenti e riabilitazione. Quindi l'infermiere accompagna il malato durante tutto il periodo della malattia, fino alla guarigione e poi anche oltre. La prima area che l'infermiere deve tenere in considerazione è la qualità di vita. La malattia tumorale, la diagnosi della malattia tumorale, viene presa dai pazienti in maniera estremamente diversa. C'è chi si fa battere completamente, c'è chi invece ci butta tutta l'energia dentro, e quindi si informa particolarmente, segue i trattamenti, e ne sa anche più degli operatori sanitari, e ne sa anche più del medico. Ci sono persone anche che prendono la diagnosi di tumore come sollievo, perché il fatto di doversi allontanare dallo stile di vita classico, magari dagli ambienti, dalla routine, li porta a prendersi una pausa da magari situazioni stressanti che vivevano prima della diagnosi tumorale. Quindi abbiamo visto che ognuno affronta la malattia in maniera completamente diversa. È importante che l'infermiere lo sappia e agisca in considerazione della situazione in cui il paziente si trova, non della situazione in cui il paziente dovrebbe trovarsi. Un'altra cosa da tenere in considerazione è che c'è un'enorme distanza tra quello che la malattia tumorale è e l'immagine pubblica della malattia tumorale. Se si dice tumore, la prima immagine che viene in mente è una persona calva. La maggior parte dei trattamenti chemioterapici comportano allopecia, calvizie. Però in realtà, se si entra in ambito clinico, se ci si informa, si scopre che questo è un preconcetto. È vero che la maggior parte dei trattamenti chemioterapici comportano allopecia, però non tutti, e non tutti i pazienti poi mostrano questo sintomo. È solo uno dei sintomi che si possono manifestare. In ogni caso, bisogna tenere qual è il bagaglio culturale che la persona si porta dietro. Ci sono persone che magari vedono la malattia tumorale proprio come la fine della vita e interrompono le proprie attività vitali. Ecco, l'infermiere deve scoraggiare questo atteggiamento e invece cercare di portare il paziente verso una visione alternativa, la visione della malattia tumorale come opportunità. Un momento di sofferenza sicuramente, ma che può essere un trampolino di lancio per un cambio completo, per mettersi in discussione, per un assestamento della scala valoriale. Ecco. Quindi l'infermiere si occupa sia del cosiddetto cancer outcome, ovvero della ben riuscita dei trattamenti e la remissione, non si può parlare veramente di guarigione, del tumore, ma anche del patient outcome, ovvero di accompagnare il paziente durante tutti i trattamenti e anche dopo nella riconquista, nella ricostruzione della propria vita. Ora, il tumore è una patologia peculiare e peculiari sono anche i trattamenti. Perché? Perché il tumore può essere una malattia invalidante e invalidanti sicuramente sono i trattamenti. È importante quindi nell'accompagnare il paziente in questo percorso dare gran valore alle sue scelte, farlo partecipare, ecco, nelle scelte dei trattamenti, non dire, ok, adesso ti è stato diagnosticato un tumore, se sei un oggetto, ti metto nella casella polichemioterapia e vediamo come va. No, il paziente deve avere voce nei trattamenti e quindi deve essere anche adeguatamente informato per poter avere voce. Per misurare la qualità di vita, l'infermiere ha degli strumenti, c'è per esempio la performance status Karnoski, ma anche Eco, G, ESAS, FLIC, queste sono tutte delle scale, ma soprattutto la scala FACT, che nonostante sia generica, è sembra un po' un controsenso, però è così, è quella che riesce ad andare più a fondo e a dare dei risultati più affidabili. Per concludere il capitolo qualità di vita, l'infermiere deve tenere in considerazione la soddisfazione, la stima di sé, lo status socio-economico e che il paziente abbia un sufficiente stato di benessere psicofisico. Cerchi altri video sullo stesso argomento? In descrizione trovi il link alle playlist con centinaia di video organizzati per materie. Prova a dare un'occhiata. Prova a dare un'occhiata.